Ecco De Angelis, sentiamo per quanto riguarda la stagione 2012 la differenza dall'anno scorso, moto diversa, team diverso, meccanici però mi dice gli stessi dell'anno scorso. Sì, ho preso questa nuova avventura, abbiamo cambiato praticamente sia la moto che la squadra, questa è una squadra che da tanto tempo mi cercava, team forward, loro sono quasi inizi perché sono 3-4 anni che sono all'interno della moto mondiale però si stanno ingrandendo tantissimo, come si vede hanno fatto anche la CRT con Pauline Edwards, quindi hanno un team veramente che vuole far bene negli anni e ho preso questa avventura. Le prime tre gare non sono partite molto bene perché con la moto nuova con questa Suter non mi trovo ancora a mio agio però è una moto che va sicuramente forte perché Lutti e Marquez con questa moto stanno facendo grandi cose quindi devo solo trovare l'assetto più giusto per me e credo che stiamo lavorando comunque bene perché ogni gara va sempre meglio. Ho portato con me i miei tecnici perché chiaramente mi conoscono bene, io loro mi fido e stiamo lavorando in sintonia, speriamo di arrivare ai risultati almeno con i quali abbiamo finito la scorsa stagione il prima possibile. Margini di miglioramento? Penso tanti anche perché abbiamo ancora tante idee da provare, non siamo riusciti a finire il lavoro e quindi tantissimi assetti ancora da provare, credo che secondo me tra un paio di gare saremo molto più competitivi anche perché Suter sta lavorando molto in sintonia con noi, ci danno tutto il loro supporto tecnico e i risultati dovranno arrivare per forza. Benissimo, allora in bocca al lupo, Alex e bene. Crepi il lupo, ciao a tutti. Ciao.